Che muri no ghi man Che muri no ghi man Sweet Nightmare Lui è Scary Corn Ovvero le Psycho Sherrys Bloody Berry Toxicola Questo manga non è un manga E' vuoto E' finto E' un inganno Sono fagile di armi Proprio come il villain di questa saga Questi sono gli aromi Delle sigarette elettroniche Tu sei già Oggi nella giornata mondiale Oggi infatti il No Tabacco Day Oddio E' la soluzione Oggi è il No Tabacco Day Io e l'ILT Vi diciamo che un cattivo Che sa di buono Non è meno cattivo Grazie a tutti Grazie a tutti.